Mentre il presidente regionale Francesco Acquaroli firma l'ordinanza per chiudere da domani anche nella provincia di Pesaro Urbino le scuole medie e superiori, qui a Pesaro continua lo screening rivolto ai ragazzi delle medie e superiori. Oggi pomeriggio al campus scolastico c'è stata una grandissima affluenza, siamo andati a sentire i docenti e i ragazzi che hanno partecipato. Una cosa importante è soprattutto tenere sotto osservazione comunque la situazione data l'aumento dei casi e niente abbiamo reputato che è data l'opportunità della scuola. Quanta attesa? C'è molta fila? Siamo arrivati a dieci minuti dalle due e ancora devono aprire però vabbè aspettiamo, è per una buona causa. Ma sono in fila da tre quarti d'ora circa, è importante chiaramente per essere sicuri, per continuare la scuola in presenza, sia per noi stessi sia per tutte le persone che ci secondano. Tra l'altro oggi il governatore Acquaroli firmerà l'ordinanza e da domani si torna in Daz. Sì, è giusto usare tutte le misure cautelative, è tutto giusto, è difficile organizzarsi, come vede la fila è troppo lunga, immagino che chi è in fondo dovrà stare parecchio. Il motivo è evidente, più ci controlliamo più siamo tutti sicuri di come stiamo noi ma anche di come facciamo stare gli altri che sono con noi. Quindi è più di così e anzi grazie per questa cosa, adesso chiunque abbia potuto anche farla realizzare, grazie anche alle persone che hanno dato il contributo proprio di volontariato perché qui c'è anche un bel aiuto in questo senso. Lei accompagna suo figlio a fare il tampone, diciamo perché ha deciso che doveva farlo? Sì, perché ritengo che comunque sia una cosa utile, anche per stare non tranquilli, però diciamo parzialmente tranquilli che per il momento almeno non c'è, poi il virus intendo. Un'attività di prevenzione importante anche se da domani le scuole tornano in DAD. Ho sentito, ho sentito la notizia purtroppo, però sì, non so cosa dire al riguardo, nel senso che capisco le difficoltà, però è anche vero che le ultime varianti, diciamo così, rispetto alla prima ondata attaccano molto di più giovani. Addirittura anche i bambini, le ultime, che sono poi quelli che fondamentalmente non hanno nemmeno l'obbligo della mascherina, le elementari e quindi non dobbiamo veramente abbassare la guardia. Ho deciso di aderire all'iniziativa dei tamponi per la mia famiglia soprattutto e penso che sia un gesto di responsabilità nei confronti dei propri compagni di classe e della società, insomma. Voi studenti delle superiori eravate già in didattica a distanza, come sta andando? La didattica a distanza funziona, non credo possa sostituire la scuola in presenza, però insomma funziona, è molto triste come cosa. Hai fatto il tampone e com'è andata? È andata bene, era la seconda volta che lo facevo, l'avevo già fatto, perciò bene, sono contento. È andata bene, questa era la quarta volta che lo facevo, quindi ormai ci sono abituata. Il motivo per cui hai deciso di farlo? Per sicurezza, perché almeno ho avuto un caso in famiglia, quindi volevo evitare di stare di nuovo male un'altra volta, quindi per sicurezza è meglio che tutti lo facciamo.